Presidente Sebastiani, una grande vittoria quest'oggi con il Monza, il gol di Bocchetti equivale davvero ad una gioia grandissima, quasi una liberazione al novantesimo. Sì, sì, sicuramente, scusatemi, io non ho più la voce, sicuramente una grande vittoria, i ragazzi veramente hanno dato il massimo, hanno dato tutto ed sarebbe stato veramente un peccato non portare a casa la vittoria per quello che abbiamo creato, se pensiamo che nei primi cinque minuti del secondo tempo abbiamo avuto 4-5 palle gol nitide, sarebbe stata veramente una beffa. Grande partita, grandi complimenti a tutti, al mister in primis e ai giocatori. A proposito di Breda, i numeri dicono che in quattro partite con il nuovo allenatore il Pescara ha vinto due volte, ha pareggiato una gara e ne ha persa una, immeritatamente all'Adriatico con il Vicenza. È cambiato qualcosa, è cambiato molto nel Pescara? Sì, i numeri sono questi, quindi evidentemente qualcosa è cambiato in positivo ed è chiaro che noi siamo contenti di questa situazione. Ha visto Galliani negli spogliatoi, ha avuto modo di parlare con il dirigente del Monza? Sì, ma siamo stati a pranzo insieme oggi, quindi con lui ho un grande rapporto da sempre. Aveva pronosticato prima della partita un 3-0 per il Pescara, abbiamo fatto 3-2, quindi è andata comunque bene. Presidente, senza voce la lasciamo subito, però le chiedo cosa cambia e se cambia qualcosa questa vittoria, perché questa non è una vittoria come tutte le altre, è una vittoria ottenuta contro la corazzata del campionato. No, non cambia assolutamente nulla, siamo ancora lì dietro e dobbiamo lavorare veramente molto per uscire definitivamente dalle posizioni di bassa classifica, perché credo che questa squadra, questo gruppo non meriti quelle posizioni. Per chiudere, l'ultimissima, martedì si preannuncia un'altra battaglia con il Brescia? Sì, un'altra grande squadra che viene all'Adriatico e quindi un'altra battaglia da giocare fino all'ultimo minuto come abbiamo fatto oggi.